Sì, probabilmente abbiamo non fatto bene gli ultimi 15 minuti, 20 minuti e dobbiamo crescere in quello, migliorare, cercare di essere comunque però positivi fino alla fine della partita soprattutto quando la partita è in parità perché c'è sempre la possibilità di vincere però poi siamo stati anche un pizzico fortunati nell'occasione del palo però abbiamo avuto le nostre occasioni anche noi, credo che poi alla fine il pareggio possa essere un risultato giusto Mister, al netto delle turni da settimanale che sicuramente ha penalizzato la squadra sul piano atletico magari soprattutto per via di tanti infortuni delle tante assenze le chiedo cosa è successo oggi perché soprattutto verso la fine della partita la squadra, soprattutto con il pesco quando usciva il pallone c'era la Ternana che insomma correva per recuperare la palla batte le palle laterali, invece il Bari sembrava quasi addormentarsi cercare di addormentare soprattutto il gioco eppure al netto della classifica il Bari è la squadra che si trova qui in alto e la Ternana aveva totalizzato 0 punti ma non funziona che chi è più in alto in classifica vince per forza le partite se no non daremo mai alla Ternana la possibilità di recuperare anche se tu, capisco bene, parli di atteggiamento ma ci sono dei momenti nella partita dove, ed è successo oggi in maniera molto evidente dove il Bari ha avuto la supremazia sulla Ternana e dei momenti in cui la Ternana ha avuto la supremazia sul Bari allora nella parte finale della partita ci siamo accorti che probabilmente la Ternana stava meglio di noi sia a livello emotivo che a livello fisico allora ci siamo preoccupati magari di spezzare un pochino i ritmi io credo che sia avvenuto questo Forse ha sofferto un po' troppo la mobilità dell'attaccante, di Raimondo? Ma no, abbiamo preso due, come sempre succede nel calcio quando non sei messo bene il pericolo è sempre quando la palla ce l'hai te di fatti noi abbiamo preso soprattutto nella parte finale un paio di ripartenze su azioni non chiuse, su falli tattici non fatti e questi ci hanno messo nelle condizioni magari di rischiare qualcosa però a volte è proprio la voglia di vincere le partite che ti porta a sbilanciarti e negli ultimi minuti non lo abbiamo più fatto Che impressione ha avuto dalla Ternana? L'anno scorso l'hai incontrata nell'ultima giornata, nell'ultima sconfitta? La Ternana mi sembra una squadra di serie B che in questo momento poteva essere un pochino in difficoltà perché non è facile giocare in casa soprattutto quando hai pochi punti e quando sembra che però il campionato è talmente tanto lungo che fasciarsi la testa adesso è prima di essersi la rotta può succedere che non si parta benissimo ma ci sono i margini per recuperare anche se questo è un campionato dove ogni partita è difficilissima e a volte vinci partite che non meriti di vincere e perdi partite che non meriteresti di perdere Il mercato è finito adesso valuteremo se c'è la possibilità se c'è qualche giocatore interessante però io credo che la squadra sia completa ci prendiamo il nostro tempo per valutare questo organico e capire se c'è qualcosa tra gli svincolati Nel post partita da Parma in voi ha sempre giustificato una sorta di caldo di brillantezza offensiva dicendo che erano un po' corti probabilmente due giorni fa nella sua conferenza per partita ha detto che in realtà adattando alcuni giocatori non serve necessariamente la punta strutturata eppure anche oggi sembrava che nel secolo a tempo il Bari mancasse di brillantezza offensiva quindi cos'è cambiato in realtà? Non deve passare il messaggio che io vengo qua a giustificarmi io vengo qua a raccontare quello che ho visto e ad esprimere il mio pensiero poi molto spesso il pensiero dell'allenatore è in contrasto con quello di voi che gli fate le domande io penso che quando rientrerà Dio saremo al completo ci possono stare durante l'arco della stagione degli infortuni o delle squalifiche dobbiamo anche mettere nella condizione i giocatori offensivi che sono arrivati di acquisire condizioni di acquisire nozioni per quello che riguarda la nostra parte tattica Grazie signori, buon lavoro Grazie a voi